E' un sabato qualunque, un sabato di fair play, benvenuti a un altro sabato di Champions League dove si affrontano Real Madrid contro Wolfsburg, la terz'ultima giornata di questa Champions League prima delle fasi finale, le due squadre che sono lì per qualificarsi devono oggi fare il passo decisivo verso la qualificazione quartifinale Muratore, serve bene Maltese, si è inserito bene Maltese, Mercurio salva, ci mette Ile Guantone, accompagna sulla traversa poi Leo non riesce a correggere il rete ma ancora Real è vicino Mangano può calciare, Mangano da fuori, Mercurio si deve distendere per rispondere a Mangano Ile Guantone, Maltese, Maltese sopra la metà del campo, può calciare, Maltese è accettato bene, se larga bene Maltese fa tutti fuori e realizza il gol del vantaggio del Real Madrid Niccolò, Maltese tanto per cambiare Guarda la strada Occhio a Muratore, è in dettaglio, Muratore può calciare, Muratore contro Mercurio e vince Muratore, 2-0 Real, rapida successione a Maltese risponde Muratore si pallone, non lo fa Muratore, di tacco per Maltese Maltese è prestato da Liga, da Sansone, alla fine sbuca bene Maltese serve Muratore, può calciare in palco, Muratore bacia il palo e la palla, realizza il gol del 3-0, sempre Gianluca Muratore Maltese, per Mangano, Mangano può calciare, destra, mi piace, appoggia per Maltese Maltese può superare Mercurio, appoggia per Leo 4-0 Real, anche Valerio Leo, alla festa dei bianchi che non c'era bianchi a tutta la curta palla subito, recuperata da Riammatita appoggia Muratore, Muratore, Muratore lo ferma solo il palo a Gianluca, Muratore è alla sua tripletta Catarella per Cuccio, si inserisce bene, supera Mangano, Cuccio può calciare Cuccio, Bruno con il fiedone, in calcio d'angolo oh, Mangano lascia sfide per Caldarella, che la piazza sotto l'ingrocio, ma Bruno gliela toglie da lì dica, non è un passo sul Muratore, che recupera anche il palone, la passa a Maltese Maltese può calciare, due Supreme di Sansone invece è calcio e Mercurio para ancora sul Maltese sfida tutto per Viola, si addormenta la difesa del Vosburg e soltanto il palo addire di nuovo alle 5-0 del Reale con Viola Sansone Cuccio per Caldarella, che si è inserito benissimo cambia dall'altro lato per Liga, stoppa bene Liga, calcio e Bruno si deve impegnare per evitare l'1-4 del Vosburg e supera il Muratore, che arriva come un treno e supera questo pallone, Mangano, all'alga per Maltese bello questo assist di Emanuele Mangano Maltese si accentra, Maltese può calciare deve superare Cuccio però è da solo Maltese, deve fare tutto bene Maltese supera due, Maltese calcia e realizza un super goal 1 contro 2, vince l'1 ed è Nicolò Maltese 5-0 ok Viola, ci mette una pezza mette in pallo laterale, Calipo mette fine a questo primo tempo, 5-0 per il Reale domina assoluto, anche se il Vosburg è stato fermato da un grandissimo Andrea Bruno deve superare due appoggio per Bagnasco, Bagnasco deve allargare per Cuccio, bene Cuccio deve mettere in pallone in metodo, lo serve per Caldarella che fa la ceretta al palo palla sul fondo, prima operazione del Vosburg Caldarella Caldarella supera due calcia Bruno ancora sbarragli la porta in faccia fare occhio a Muratore allarga per Maltese, Maltese può coordinarsi è chiuso da Sansone, deve tornare ancora indietro Maltese può calciare adesso ha superato due, Maltese deve superare il terzo e realizza il gol del 6-0 reale, ancora Nicolò Maltese i voti a chiudere il passaggio per Cuccio allora Mangano, Muratore supera Mercurio con una giocata Muratore può calciare, ha superato con Mercurio non riesce a servire in avanti grandissimo gol di Valerio Leo che trova la giocata e trova il 7-0 del Real bravo, bravo bravo, bravo Caldarella recupera il pallone di Caldarella almeno contro la bandiera il Vosburg e Bagnasco per Caldarella e lo trova il gol della bandiera Federico Caldarella su assist di Fabrizio Bagnasco il secondo calipo è giusto è di Muratore perché il dottore è la stessa via un gol prova a lanciare lungo serve Maltese che fuggito a Cuccio poi Leo involontanamente realizza un gol di petto aiutato anche molto dal palo ma grande palone messi in mezzo da Nicolò Maltese e sono 9-1 reali mancano impazzisce il Mediterraneo per il gol di Emanuele mancano 10-1 anche lui alla festa della sua squadra 10-1 Leo supera tutti la piazza sotto l'incrocio Valero Leo segna la tripletta 11-1 11-2 allevia seppur di poco il dolore per il Vosburg Muratore per Mangano e della doppietta di Emanuele mancano sono 12-2 altro grande assist in Muratore e doppietta di Emanuele mancano Manzone deve tornare indietro adesso Bruno si arrabbia con Maltese perché voleva il passaggio adesso lo serve non si cambiano bene Maltese calcia e buca addirittura la rete Nicolò Maltese 13-2 Bruno lo potete vedere Bruno serve la saluzione di Muratore Muratore entra in area di tacco per Bruno che se lo divora e colpisce l'incrocio dei pali a porta vuoto in faccia a Leo ripartono quelli del Reale con Bruno Bruno per Maltese 4 contro 0 anche qui Maltese può calciare Maltese in mezzo per Leo che anticipa Bruno e segna i golli del 14-2 è un po' è un po' è un po' un po'